Non sono stati ancora fisicamente apposti sigilli nell'area della gola della Rocchetta a Gualdo Tadino, così come stabilito dall'ordinanza del commissario agli UCCVC di Roma. È questione di ore tuttavia, perché poi saranno i carabinieri forestali, così come indicato dall'ordinanza, a chiudere, interdire fisicamente quest'area a qualsiasi forma di fruizione. L'azienda Rocchetta, tramite l'avvocato Chiara Bigioni, ha dichiarato la volontà di proseguire l'attività di prelievo, non avendo il sequestro interessati pozzi e le condotte, ma soli terreni dove questi insistono. Non potrà, come accaduto sino ad ora, accedere all'area, ma vista la necessità costante di monitorare la qualità del prodotto prelevato ed operare per la manutenzione del luogo, chiederà alla Presidente della Giunta regionale, indicata dal giudice quale custode dell'area sotto sequestro, di essere autorizzata all'accesso. Sul fronte delle reazioni al sequestro si dice allibito il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, che rivendica al suo operato la volontà di addiempire alle lacune amministrative indicate dallo stesso tribunale in una precedente seduta. In quell'occasione si annotava che sull'area dei pozzi e delle condotte mancavano documenti di cambio di destinazione d'uso o in alcuni casi non erano stati perfezionati. In serie di dibattimento presso il commissariato, lo stesso giudice, non quello che ha messo l'ordinanza, ma l'altro ci ha chiesto in più di un'occasione di sistemare, questo è stato il termine, le carenze amministrative per proprio sgombrare il tavolo da ulteriori possibili. Una volta che, ripeto, parliamo di porzioni di terreno infinitesimali rispetto al grande patrimonio di Gualdo Tadino, quindi, come dire, questa ordinanza, che non è una sentenza, è un'ordinanza, mi lascia ancora più basito rispetto a una cosa che avevamo condiviso, un iter che era stato condiviso, così come la riscossione dei canoni arretrati, anche quelli, li abbiamo condivisi, rivalutati addirittura, perché è giusto fare così, e non abbiamo fatto lo sconto nemmeno di un centesimo alla società. Il primo cittadino rivendica alla sua amministrazione correttezza e trasparenza e rigetta la richiesta di dimissioni che oggi arriva dai Cinque Stelle. La portavoce di questi, Stefania Troiani, accusa sindaco e giunta di aver dato priorità agli interessi economici di pochi, piuttosto che alla collettività, calpestando norme, codici, direttive, sentenze, secca la replica del sindaco. Io credo che ai cittadini interessi, soprattutto in una fase come questa, che un'amministrazione pubblica garantisca servizi, che si impegni al massimo per creare opportunità di sviluppo, di lavoro e di risanamento ambientale. Non credo che ai cittadini interessi quanti metri di compressione, di uso civico, ci sono stati nella costruzione di una struttura, tra l'altro, di pochi metri quadri, cioè un camminotto sopra un pozzo. Amareggiata della vicenda, si dice la comunanza agraria Pennino Gualdese, proprietaria dell'area oggetto di sequestro, che tuttavia, sul punto sollevato dal sindaco, ricorda che la tutela del territorio, a breve termine vista solo come intralcio allo sviluppo, porterà a essa stessa sviluppo e benessere a più lungo raggio. Comunanza che a breve annuncia il primo cittadino, e qui la novità di oggi, sarà chiamata a risarcire per almeno 8 milioni di euro il comune della gestione protempore dei beni montani, fatta in sua vece dal 1976 ad oggi, ovvero nell'arco di anni di quiescenza dell'ente. Siccome i cittadini hanno pagato negli scorsi 40 anni, tutti, qualcosa come 8 milioni di euro per mantenere i terreni gravati da uso civico, per non mandarli in malora, visto che oggi ci si dice che noi non siamo titolati, allora chi è titolato a farlo? Molto probabilmente dovrà rimborsare non il sindaco, ma i cittadini di Gualdo, che hanno pagato di loro per mantenere questo patrimonio che sarebbe stato abbandonato. L'ultima nota della giornata su una vicenda destinata ad avere ampia eco anche nei prossimi mesi è quella del WWF con Sauro Presenzini, ricorrente presso il Tribunale, che dietro l'immagine di David Vittorioso su Golia avverte minaccioso che la questione è semplicemente agli inizi, foriera di nuovi provvedimenti.